Buon pomeriggio, benvenuti allo stadio dietro Armando Maradona, gara di serena tra Napoli e Udinese, diamo l'avventura delle formazioni, cominciamo con la squadra ospite Udinese Udinese con la nesta vasca con la sessanta settore Cassandra e con la miniatta tasca, un po' fulgioso Sta preparando Grazie Con il numero numero uno, Lorenzo! Con il numero numero 22, Gianni! Con il numero numero tre, Gimba! Michele! Con il numero numero cinque, Buonga! Con il numero numero diciassette, Mattiasso! Con il numero numero 19, Frenko! Gimba! Gimba! Con il numero numero sessantotto, Temis Lomba! Provoca! Con il numero numero venti, Pietro! Gimba! Con il numero numero undici, Gimba! Lo Stato! Con il numero numero nove, Vittor! Cosime! Con il numero numero sette, Enico! E' il pass! A disposizione! A disposizione! Si viene il giugno! Mister! Luciano! Alecchi! Un numero numero 12, Melio! Marcella! Un numero numero 16, Roberto! Ineslacca! Alecchi! Un numero numero 4, Diego! Meli! Un numero 6, Mario! Lui! Un numero 18, Giovanni! Sirene! Un numero 21, Matteo! Bonitana! Un numero 23, Alessio Zerwin! Un numero 31, Carina Zeracca! Un numero 55, Noa Mastigardo! 59, Alessandro Zeratelli! Un numero numero 17! 70, Gianluca Gaetano! Un numero numero! Un numero numero 1, Jack Raspadoni! Un numero numero 21, Taghi! Tenemos! Un numero numero 21, Neri! Uore! Un numero numero Nad Rivgium! Un numero numero 19, Gimba!